Dopo il sopralluogo di ieri, il Genio Civile ha dato parere positivo rispetto alle opere realizzate per la messa in sicurezza idraulica dell'area dove dovrebbe sorgere il Megalo II di Chietiscalo, centro commerciale denominato Mirò. Le opere vennero ordinate dal Genio Civile nel dicembre del 2013, mentre a gennaio 2014, con un'altra ordinanza, venne disposta la sospensione dei lavori. Gli interventi, costati circa un milione di euro a carico della Sile Costruzioni, consistono nella realizzazione di una paratia metallica alta quasi due metri che si estende per 600 metri di lunghezza, nel rialzo dell'argine esistente per 550 metri lineari e nella demolizione dell'ultimo tratto di argine per una lunghezza di 150 metri, argine che restringeva l'espansione del fiume Pescara. La vicenda di Megalo parte nel 2012 con il parere positivo del Comitato Via al progetto, poi arriva lo stop da parte del Genio Civile e nel marzo 2013 la società Bergamasca Sile, subentrata alla Sirec, chiede la proroga della scadenza quinquennale del via, presentando una variante al progetto originale. A quel punto la commissione via regionale dà parere negativo, motivando con l'intervenuta modificazione delle condizioni ambientali, infrastrutturali, idrauliche e socio-economiche per inadempienza ai rilevi fatti nel 2012 dallo stesso via ed infine bocciando la variante proposta al progetto. Da qui parte il ricorso al Tar dell'Asile che si discuterà il 23 marzo prossimo. Al momento quindi tutto è sospeso in attesa del pronunciamento dei giudici amministrativi, ma nella lettera legata alla procedura di via di marzo 2017, l'ingegner di Biase, dirigente del servizio di genio civile regionale, dichiara che l'opera è autorizzabile a condizioni che si eseguano e vengano collaudate positivamente le opere prescritte dal via per la messa in sicurezza e che si verifichi la condizione di pericolosità P0 con variante al PSDA che dovrà essere approvata dall'autorità di Baccino. Contro il progetto che ricade sulla sponda destra del fiume Pescara nei territori di Cepagatti e di Chieti, che hanno autorizzato con le concessioni l'intervento, si sono schierate le associazioni di categoria dei commercianti e quelle ambientaliste, critiche sulla pericolosità dell'opera e sull'impatto che avrà sul già agonizzante piccolo commercio. Adesso bisogna vedere se la ditta cercherà di forzare, diciamo così fra virgolette, sostenendo che comunque l'autorizzazione del 2012 può essere comunque ancora utilizzata, però deve realizzare il progetto vecchio, oppure attenderà il ricorso al TAR, il giudizio del TAR per, se dovesse malauguratamente vincere, pretendere anche l'esame della variante. Ecco, ovviamente noi in generale siamo assolutamente convinti che quest'opera non si debba fare. Voglio ricordare che il Megalo 1 è stato fatto senza valutazione di impatto ambientale con una leggina regionale che è durata pochi mesi, che ha sospeso la validità delle dettive comunitarie sulla valutazione di impatto ambientale, una cosa inaudita. Quello che dirà il Ginecivile è sicuramente importante, ma non la toglie al fatto che il progetto Megalo 2 è stato bocciato dal Comitato Via. Quindi quel progetto è attualmente annullato a tutti gli effetti, occorrerà che il Comune di Chieta e il Comune di Cipagate ritirino i permessi di divisi che hanno a suo tempo concesso.